Il Dipartimento Management dell'Accademia del Teatro alla Scala è nato per dare formazione ai nuovi professionisti, ai giovani professionisti che si occuperanno di dirigere iniziative di spettacolo. Sostanzialmente ci sono due corsi, il primo è fatto in collaborazione con la Sdabocconi e con il Piccolo Teatro di Milano, ormai siamo giunti alla decima edizione ed è il Master di Management per lo spettacolo. Il secondo corso si rivolge invece ai musicisti e si intitola corso di autoimprenditorialità musicale. Questi due corsi hanno in comune questa idea di dare degli strumenti ai nuovi professionisti, nel caso del Master di dare una formazione globale per chi si occuperà di spettacolo, per esempio abbiamo degli allievi che si occuperanno non solo di teatro musicale ma anche di teatro di prosa, qualcuno di cinema e invece nel caso del corso dell'autoimprenditorialità di dare ai musicisti degli strumenti per fare meglio la loro professione, per esempio strumenti non solo legislativi, project management, ma avere soprattutto delle idee importanti da proporre e acquisire una sorta di formamenti, una formazione progettuale che aiuti a dare concretezza a delle idee. Grazie 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 a tutti